Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Varese in Rosa, come sempre diamo il benvenuto alla nostra ospite Serena Nardi, ben ritrovata. Ciao Deborah, grazie per l'invito. Grazie a te, ovviamente siamo qui per parlare ancora una volta del Varese Estense Festival, siamo arrivati alla quarta edizione, possiamo dire quest'anno un festival in rosa che si terrà dal 25 giugno fino all'11 luglio, vero? Perché appunto in rosa? Ma in rosa perché intanto come direttore artistico, anzi direttrice artistica perché così è giusto, ho scelto di puntare attenzione a rappresentare questa rinascita che tutti noi stiamo desiderando fortemente post-Covid, di farla rappresentare dalla figura della donna che in quanto madre, in quanto generatrice di vita rappresentava meglio di chiunque altro questa idea di, potremmo dire, rinascimento un po' generale, quindi rinascimento non soltanto umano ma anche soprattutto culturale e quindi associare una serie di percorsi anche produttivi, Shakespeare, Mozart, alla figura femminile mi sembrava quasi dovuto, quasi naturale. E poi perché abbiamo scoperto che all'interno dell'organizzazione di red carpet sette persone su dieci sono di sesso femminile. Io che sono direttore artistico, Sara Collu che è il direttore organizzativo, la social manager, gli aiuti costumisti, costumisti, le scenografe. Per la maggior parte tutto questo mondo di red carpet e del Varese Stense Festival è rosa, è fatto di donne e quindi mi piaceva anche raccontare quanto la ripartenza sia in mano alle donne e sia anche stimolante pensare a una società dove ad un certo punto la figura femminile acquisti un ruolo nuovo, un ruolo anche di guida, un ruolo anche proprio di riscoperta di determinate dinamiche che fino a ieri si svolgevano in un determinato modo e che adesso in epoca, speriamo, post-covid potrebbero avere una nuova vita. Certo, ovviamente è un festival che vuole divertire soprattutto dopo mesi così difficili, vuole fare cultura e vuole coinvolgere ma vuole anche accendere riflettori su tematiche importanti quindi per esempio parlando di donne ovviamente si parlerà anche di violenza di genere, non a caso su le locandine e manifesti che stiamo vedendo appunto in queste settimane troviamo ad esempio la classica scarpetta rossa che un po' fa proprio pensare al tema della violenza di genere e dunque alla sensibilizzazione su queste tematiche. Sì, allora, entrambe le regie, sia la regia di Nozze di Figaro di Mozart che è mia, sia la regia di Vittorio Bizzi su Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate hanno proprio scelto di puntare una sorta di obiettivo, di fare un focus sulla figura femminile e sulla condizione spesso disagiata e spesso difficile della donna nella società. Abbiamo usato le parole di Mozart da Ponte Shakespeare per cercare di raccontare, nonostante il passaggio dei secoli, della cultura, della società, per raccontare una condizione che è ancora un pochino difficile e quindi usare l'arte, usare le parole di questi grandi, illuminati per raccontare la nostra realtà e anche il nostro disagio esistenziale in termini di relazioni umane credo che sia il compito dei registi, il compito di chi fa arte. Sicuramente, naturalmente abbiamo diverse iniziative legate a questo tipo di problematica della violenza di genere abbiamo collaborazioni con Amico Fragile Onlus, con Eva Onlus, Varese Busto Arsizio quindi faremo anche un incontro l'11 luglio alla mattina che si chiama proprio Le tue scarpe sono rosse per sensibilizzare le persone su questo tipo di situazione e abbiamo scelto in particolare Nozze di Figaro un testo, un'opera che punta molto l'occhio sul tentativo di prevaricazione del maschio, dell'uomo nei confronti della donna ovvio che la scarpetta rossa del titolo è molto forte ed è molto inequivocabile nel messaggio e anche il fumetto di Susanna che dice ci sono anch'io, non c'è solo Figaro in queste nozze quindi paradossalmente giocandoci un pochino, infatti è stato usato come dire l'immagine del fumetto non vogliamo appunto dimenticare che intanto appunto il matrimonio si fa in due quindi c'è Figaro e c'è anche Susanna e che soprattutto perché ce lo raccontano Mozart da ponte tutta la vicenda di Nozze di Figaro parte proprio da un dire di Susanna da una denuncia di Susanna nei confronti del conte che poi è tutto il motore della vicenda quindi quello che ci interessa è cercare di parlare di questi temi anche come dici tu in modo giocoso perché Nozze di Figaro, il sottotitolo è commedia per musica quindi non stiamo parlando di nulla di tragico tra l'altro arriva da una commedia di Beaumarchais commedia comunque che ha avuto le sue difficoltà perché è stata censurata perché insomma lo stesso Mozart e da ponte hanno avuto delle difficoltà a cercare di affrontare certi messaggi che insomma tentavano di portare una visione illuminata in una società ancora, non dico anzian regime però insomma siamo lì e siamo comunque ad un passo dalla rivoluzione francese quindi questi eventi di rinnovamento che Nozze di Figaro si porta dentro da Beaumarchais in avanti sono quelli che io vorrei cercare di recuperare per dire al pubblico alle persone che verranno a vedere Nozze di Figaro attenzione perché dentro lì ci siamo anche noi ci sono le nostre storie ma soprattutto ci sono le nostre storie di donne Certo, assolutamente tu tra l'altro dicevi appunto che in queste storie possiamo ritrovare le nostre storie e non a caso proprio perché appunto si tratta di testi scritti veramente tantissimi anni fa ma che comunque sono attuali Sì, quello che secondo me noi possiamo imparare da Nozze di Figaro ma anche da Sogno di Nonato e di Mezzestate è quanto la consapevolezza della donna quindi della femmina possa fare la differenza cioè il cambiamento deve partire da noi e deve partire da noi donne cioè siamo noi a dover prendere intanto a dover avere il coraggio della consapevolezza perché spesso accorgersi prendere atto di determinate situazioni comporta una grande fatica psicologica un grande coraggio quindi questo è il primo passo poi naturalmente i giovani ci stanno raccontando delle cose nuove tanto è vero che adesso lo dico perché poi dopo verrà fuori io per i due personaggi femminili e maschili giovani femminili e maschili giovani di Nozze di Figaro che sono Cherubino e sono Barbarina prendo letteralmente ispirazione da un personaggio oramai cult della nostra vita quotidiana che è Achille Lauro e invece per Barbarina prendo ispirazione da un altro personaggio femminile della nostra quotidianità pop che è Victoria dei Maneskin perché sono due giovani di oggi che ci stanno raccontando e ci stanno insegnando quanto la tolleranza la benevolenza anche fin anche gender fluid siano oramai delle dimensioni all'interno delle quali noi dobbiamo imparare da loro a starci dentro e a starci bene quindi è anche per esempio una regia appunto un po' pop un po' a metà tra il moderno e il classico però molto molto contemporanea che guarda veramente le situazioni di oggi e quello che i giovani ci possono raccontare e quello che ci dobbiamo lasciare alle spalle le incrostazioni le criticità che non vogliamo superare e quanto invece i giovani già di spontaneamente in modo istintivo siano in grado di fare ecco certo assolutamente anche perché diciamo accettare anche le diversità e i cambiamenti consente di fare un passo in avanti e quindi di migliorare anche le nostre relazioni tra uomo donna insomma in generale esattamente sì ecco ritornando alla metafora credo che sia arrivato proprio il momento di lasciarci alle spalle questa sorta di ancien regime che governa i nostri rapporti interpersonali e tra generi perché ecco direi che questa sorta di vecchiume no di non ci fa bene non ci fa più bene io spero che questo anno e mezzo di di covid e di clausura e di forzata chiusura dei rapporti direi quasi di una sorta di eremitismo che ci siamo portati dietro forzatamente possa invece poi esplodere in una apertura davvero in un rinascimento dei rapporti e anche nella voglia di guardarci dentro di ripulire tante incrostazioni che ci portiamo dentro da pre pre epoca pre covid bisogna rinascere questo è fuori in discussione e shakespeare e mozart guarda ce lo dicono ce lo dicono benissimo con le parole perfette con la musica meravigliosamente gloriosamente inarrivabile quindi è sufficiente che i grandi dell'umanità che ci hanno restituito questo questo patrimonio immenso che è la loro arte la loro cultura siano lì davanti a noi e che noi li guardiamo li prendiamo per mano e credo che metà del lavoro possa già essere fatto certo assolutamente anche perché giustamente dicevi tu questo è il momento di rinascere di guardare oltre prima di tutto queste problematiche che ci hanno caratterizzato e anche migliorare diciamo la relazione con l'altro non a caso parlavamo di covid immagino per concludere che il covid abbia anche quest'anno in parte reso più difficile l'organizzazione del festival quindi ovviamente tutto avverrà seguendo la normativa anti covid e quindi immagino che l'organizzazione sia impeccabile però per voi non sarà stato sicuramente semplice neanche quest'anno no è stato difficilissimo già l'anno scorso era stata un'impresa da dio quest'anno è veramente una cosa difficile perché ti dirò sia noi organizzatori che le persone hanno perso tantissimo hanno perso voglia hanno perso entusiasmo è come se veramente questo anno e mezzo ci abbia un po' spento dentro e quindi la fatica delle regole anti covid che verranno naturalmente rispettate nonostante i vaccini nonostante tanti progressi fatti però come sentirsi oramai diventati disabili nei confronti di certe situazioni che prima assolutamente andavano fluide senza problemi adesso è tutto bisogna guardare tutto controllare tutto sembra di vivere veramente una dimensione alterata e alternativa rispetto a prima quindi sì io personalmente lo dico sempre anche alle altre persone che lavorano con me mi sento un po' in difficoltà è come se questa cosa fosse totalmente nuova e non ci fossero tanti anni di lavoro di esperienza anche di successi è come se veramente quest'anno si ripartisse completamente da capo e quindi c'è tutta quella fatica di dover ricostruire qualcosa che ti è crullato addosso anche perché nei fatti è diverso bisogna lavorare in modo diverso quindi quello che si è fatto in passato non vale più fondamentalmente perciò bisogna ripartire con delle dinamiche completamente differenti anche un po' più complicate più complicate perché il pubblico è sempre molto chiuso ancora ridotto e quindi ci sono ancora le norme che ben sappiamo che ormai ci portiamo dietro da una vita ci sono ancora persone che ci dicono no io non prendo il biglietto perché non voglio venire a vedere una cosa con la mascherina perché mi sento a disagio certo c'è ancora anche una chiusura mentale quindi al di là del numero ridotto è proprio difficile gestire le paure ancora i timori delle persone tanti veramente non prendono i biglietti non vengono per timore chi non ha fatto il vaccino o chi comunque l'ha fatto e teme ecco sembra quasi che veramente questa cosa ci abbia spento i desideri e invece io vorrei che tutto questo davvero ce lo lasciassimo alle spalle perché c'è sempre la possibilità di rinascere di ripartire insomma e l'arte e la cultura sono sempre soprattutto per noi italiani sono sempre stati un faro una stella cometa da seguire per ritrovare la nostra strada e la nostra identità di produttori di cultura da sempre da tempi oramai immemorabili a oggi cioè sicuramente la nostra il nostro DNA di italiani può deve essere risvegliato dal teatro dall'opera dalla musica dall'arte perché noi siamo nati dentro tutta questa bellezza l'abbiamo respirata e quindi questo può essere la cura una delle cure proprio per l'anima che io spero tutti possano andare a comprare dove la vendono certo assolutamente infatti noi cogliamo questo invito e cerchiamo di diffonderlo ovviamente è il momento di rinascere e bisogna farlo proprio attraverso la cultura dunque invitiamo anche i nostri telespettatori a seguire i vari eventi in calendario avarese grazie grazie mille intanto Serena e ovviamente in bocca al lupo per questa quarta edizione così difficile ma che speriamo ti porti tanto successo grazie infinite è stato un piacere grazie anche per noi ovviamente grazie anche a voi da casa e alla prossima puntata di Varese e Rova arrivederci grazie a tutti